ciao a tutti bentornati in un nuovo gameplay dell'angelo del game bentornati qui proprio qui a f1 race stars oggi continuiamo con i nostri campionato cambiamo pilota allora con al fernando alonso abbiamo gareggiato la prima nel primo episodio io salto posso direttamente da felipe massa poi iniziamo inizio gara a questo è necessario un trofeo d'oro in europeo primo europeo primo sarebbe questo vabbè lo vedremo più avanti adesso andiamo nel racket del rifornimento non so cosa significhi ma ci saranno brasilia che la britania e australia tagli il traguardo per primo va più veloce non sono riuscito a leggere il resto ma va più veloce con meno benzina mano non devi finire la benzina aspetta ma c'è anche la benzina nelle macchine non significa o la macchina è partita veloce c'è la benzina va più veloce o la macchina è partita oh sono andando male ha scelto un po di benzina anche a me dai colpito no e non mi avete lasciato prendere la benzina ci provo ora no 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 No! Undicesimo sono! Il dodicesimo! Posso... cos'è successo? No! 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 Oh! No! 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 po di carburante l'ho preso l'ho preso l'ho preso o oggi sono riuscito l'auto velox un livello ai sono andato dritto di lì il carburante sono riuscito a prendere bene un po di carburante per me c'è bene ciao fi al fider l'ho preso qua carburante niente fatemi prendere un po di carburante ok o il pieno ah Eccola, eccola, eccola benzina Eccola, eccola, eccola Ultimo posto Oh Non avevo bisogno di andare di qua, ma vabbè, ormai Infatti non la stavo riparando E' finita la gara E' andata così Un decimo posto, a me l'ho preso qualche punto No, eh, sì, un punto Un punto, appunto Un punto, appunto Adesso in Australia Abbiamo appurato in un precedente episodio che Non ci sono I tipici animali dell'Australia Nessun canguro Ma c'è lo squalo Melbourne Niente Benzina Datemi benzina Altra benzina Non ci sono Non ci sono Number nine Ma mi sa che la Ferrari non è granché Non ci sono 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 Non ci sono